Ci credete che io vorrei registrare più Clash Royale? Ma in questo momento mi devo stare un attimo fermo E mo' vi dico anche il perché Haguna matata ragazzi e ragazze E benvenuti sul nostro secondo canale Siamo in un nuovo video di Clash Royale Non so se lo sapete Ma io il lunedì in generale Faccio live di Clash Royale sul mio canale YouTube E ieri, che per me era lunedì perché oggi è martedì 28 Abbiamo fatto una live incredibile Tanto è vero che siamo arrivati Qua Allora verso il campione definitivo Che non mi sembra proprio 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 male per niente No? Verso il campione definito come Lega Subito un bel pollice in su Vi ricordo codice creatore Cicciochamer89 se mi volete supportare Andiamoci ad Aprire questo E abbiamo una skin torre che è carina Ma che Non mi fa, cioè 500 gemme non sono tantissime Effettivamente parlando Però Boh, non lo so Dicevamo ho avuto una chiamata di lavoro Quindi Boh, non mi ricordo Io vorrei giocare di più Vediamo un attimino Stiamo andando bene Sarà complicata eh Sarà complicata Sarà complicata Il deck ragazzi Utilizziamo questo Ieri sera ho anche provato questo qua Ma sinceramente mi diverto molto di più Con questa tipologia di deck qua Raga Incrociamo le dita Non sarà facile Assolutamente Me ne rendo conto Raga Preparatevi anche a tre sonore sconfitte Per quanto mi riguarda La prima partita di oggi È questa qui Quella che sto facendo con voi Cimitero dell'opponente Poteva essere buona anche Eventualmente Questa Effettivamente parlando La fulmine poteva essere ancora più golosa Proviamo a fare così Vediamo un po' di liberare un attimo Questa Tipo di soluzione qua Io andrei a fare sicuramente così Perché secondo me C'ha molto senso fare questa roba qua Guardate a destra che bello La fulmine raga Sapete che c'è? Che secondo me Fare così Io non me voglio prendere i danni Io non me voglio prendere i danni raga Magari sbaglio Lo so Ok Lo so raga Me la devo gestire molto molto bene Qualche maialino Sarebbe stato ancora meglio Vediamo un po' se Non sono riuscito a salvarla purtroppo Raga io i miracoli li faccio Ma fino a un certo punto Quella che mi rimane là per me è un grande problema Ma se qualche danno l'abbiamo fatto Macchina volante sarebbe top Se adesso l'opponente mi tira una macchina volante Devo difendere raga Perché se no Ho pure un dannino Non voglio che mi tocca No mi conviene starmi fermo raga Mi conviene starmi fermo Mastino lavico Per me è un gravissimo C'è un problema gigantropico ragazzi Veramente Veramente è un problema enorme Macchina volante Ti prego Macchina volante Ti prego Macchina volante Ti prego Macchina volante Ti prego Non me l'ha tirata lo stronzo La macchina volante Eccola Io penso che così Sia stata la soluzione migliore A cui noi Potevamo Auspicare Facciamo così Raga è un assalto Fotonico questo eh È un assalto fotonico 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 Per forza gigante Royale Lui c'ha la cosa C'ho tutto S'ho tutto S'ho tutto S'ho tutto S'ho tutto S'ho tutto Purtroppo mi manca Un botto di roba raga Non so veramente come Come cavarmela Non credo Purtroppo che Ragazzi Io Ve voglio bene Io ve voglio bene Un botto Ma no Ma no Direi proprio Proprio no Direi proprio Proprio no Troppo counter Ragazzi Troppo Troppo counter Troppo counter Raga È veramente Era impossibile Io me so Concentrato Non 100% Perché Stavo pensando a cose Vabbè Ogni tanto il cervello Mi parte Scusatemi Però Io ve l'ho detto Mastino lavico Raga Mastino lavico È tremendo Era un mastino lavico Particolare Non abbiamo subito danni Nel senso che il gradino Stiamo su quello d'oro Quindi sapete che cosa significa Il gradino d'oro Ve l'ho spiegato più di una volta Che cosa significa Il gradino d'oro Significa che noi Dobbiamo far contento Qualcuno Che non sta riuscendo a vincere E quindi ci deve massacrare Tra l'altro Se non ho la tronco Ma ho le frecce Per evitare Lei Per evitare lei Perché ultimamente Io trovo solamente Esclusivamente Pirotecniche Valkyrie E via discorrendo Quindi a me Già che facciamo Una cosa del genere Mi piace Possiamo puntare A fare Una cosa di carino La vedo Gravissima La vedo Se mi tira una scarica Raga Ok Per forza Raga devo per forza Fare così Abbiate pazienza Non posso fare altro Non posso fare altro Eh ma io lo sapevo Provo 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 Fondamentale Questo Pescatore Che mi è piaciuto Tantissimo Non so a voi A me sto pescatore Mi è piaciuto Un bot Forse Potevo Effettivamente Forse Potevo Effettivamente Tirare delle frecce Però la pirotecnica Secondo me È un po' più fastidiosa Tanto lui Se sbaglierà Me la tirerà Di nuovo La vicino Raga Avevo detto Ci avrebbe dato valore Ve l'avevo detto Io qua Raga Non posso Perdere Cioè Non mi posso Fa Danni Assolutamente Diciamo che La torre di destra Ha un'altra Freccia Singola Proprio Una freccia E dovremmo Gestirla Facciamo così Facciamo così Così Se mi tira Il mini pecca Ok Ottimo Perché per me È fondamentale Gestirlo La scarica L'ha sbagliata Vi ricordo Che ha il mini pecca Quindi queste Sono diventate Fortissime Queste qua Perché attualmente Lui Si ha Il mini pecca Però Non ha la scarica Questo 420 Facciamo così Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene E lui è Lui è pazzo E lui è Completamente Un coglione E vabbè D'altronde Z D'altronde Va bene Preferisco così Guardate Preferisco così Veramente Veramente Preferisco così Un bot Preferisco così Tantissimo Ok 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 Secondo me Va bene Secondo me Va tanto bene Secondo me Va tanto bene Bella partita Tesa Bella partita Speriamo che Non ci faccia Ridroppare Non so se In questo momento Non ci sono Scalini dorati Da adesso Un poi Prossimo Eh infatti Lo sapevo che non c'ha L'hanno fatta Difficilissima L'hanno fatta Davvero Davvero Difficile Veramente Difficile Proprio L'hanno fatta Difficile Ci sta Diciamo che Una persona Per arrivare Là sopra Deve essere Deve essere Brava Barile barbarico Non ce l'ha Si ci ha fatto Un danno sotto torre Moschettiere Io Quel moschettiere Purtroppo Non ho la fulmine Non ho niente Quindi Ah 2.6 Pure Allora Facciamo così Facciamo così Perché Così lui mi Tirà A me anche Pensavo che Mi tirasse Lui mi ha detto Una sfega Abbastanza Importante Allora Oltremodo L'abbiamo Difesa bene Ma secondo me Questa partita è persa Secondo me Questa partita è persa Non è un 2.6 C'ha Tante carte Che mi fanno danno Ce la stiamo Cavicchiando Secondo me Il domatore Ce l'ha Secondo me Il domatore Ce l'ha Facciamo così Vediamo che succede Ma Qualche dannino Io lo facciamo Ok Me lo potevo Immaginare No Non lo so Se il risultato Che auspicava lui Poteva essere Davvero questo Il problema Lui c'ha Un sacco Di roba Che mi fa Un danno Veramente Incredibile Ragazzi Sì Qualche dannino Ma Veramente Stiamo parlando Di Di robetta Dai ci prova A concentrarti Al massimo Guardate La 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 Ok Facciamo anche così Secondo me Snopalla Tra l'altro Fortissima Questa Snopalla Una roba Incredibile Tanta roba Io ce sto Provando Tutto me stesso Veramente Ci sto Veramente Provando Proverò A fare Il mio Full Attacco Secondo me Non faremo Assolutamente Niente Proviamo Fare così Non lo so Non lo so Regà State vedendo voi Dai Mongolfiera Fammi godere No Nessuna Mongolfiera Secondo me Ha senso In questo Momento Fare questo Ok Raga Vittoria Allucinante Regà Vittoria Vittoria Allucinante Lui doveva Giocarmi Le mongolfiere Non ho capito Perché non L'ha più Giocate C'era Veramente Counter A mio Avviso Non capisco Perché non Ha giocato La mongolfiera Regà Non sapete Che c'è Ma a noi Che cosa Ce ne fotte Niente Spero che il video vi sia piaciuto Vi voglio bene Al prossimo appuntamento Ciao ciao